A Rosetto si torna a parlare della situazione relativa alla riqualificazione di due arterie fondamentali per la viabilità cittadina, ovvero via Colombo nei pressi della Pineta-Celomi, e che fa da collante tra Rotonda Sud e Centro, e via Marina situata più a sud. Da tempo i residenti di due quartieri chiedono a gran voce aiuto all'amministrazione comunale. Disaggi su un manto stradale, parcheggi, ma soprattutto marciapiedi. Giunta che sta lavorando, come conferma il vice sindaco Angelo Marcone, alle progettazioni esecutive. Poi si dovranno trovare ovviamente i fondi, un totale probabilmente di oltre 2 milioni. Come amministrazione stiamo lavorando alle progettazioni, progettazioni che saranno esecutive, che permetteranno un appalto dei lavori con, se c'è la disponibilità economica, già dal giorno dopo dell'approvazione del progetto. Ovviamente stiamo lavorando al reperimento dei fondi, che non è cosa facile, quindi è un lavoro quotidiano, di contatto con Regione Abruzzo, con anche altri enti, anche governativi come il Ministero, per ottenere dei fondi per la realizzazione di questi eventi. Ma già dotare la città di progetti esecutivi e quindi appaltabili è un grande passo in avanti. Lo sarà per Via Colombo, dove abbiamo una problematica ereditata purtroppo di un parcheggio che è sempre e continua avvallato, è pieno d'acqua quando ci sono delle piogge, e Via Marina, un'altra importante zona della città, soprattutto turistica, che ha delle gravi problematiche di viabilità sul manto stradale, ma anche per un marciapiede completamente disastrato. Ci saranno quindi due progettazioni esecutive che permetteranno intanto di poter ragionare su quello che è la prospettiva della nostra città.